Oggi, a sette mesi dalla firma dell'accordo, siamo qui per annunciare il completamento della prima struttura, quella nella quale ci troviamo, di Shenzhen. La struttura nella quale ci troviamo assolverà le funzioni tipiche dei centri di prima accoglienza, cioè gli hotspot, che chiaramente ci sono anche in Italia, che sono dedicati ai migranti che vengono soccorsi e sbarcati. Al porto di Shenzhen potranno sbarcare, come pure abbiamo già detto, solamente migranti salvati in acque internazionali da navi italiane, mentre non saranno portati in Albania soggetti vulnerabili, ovvero minori, donne, anziani, persone fragili. E vogliamo fare le cose per bene, anche perché se quello che qui abbiamo immaginato funzionerà e funzionerà, allora noi avremo inaugurato una fase completamente nuova nella gestione del problema migratorio. L'accordo potrebbe essere replicabile in molti Paesi, potrebbe diventare una parte della soluzione strutturale dell'Unione europea.